SPC Lab è un progetto nato dall'esigenza di offrire un'unità mobile per la raccolta dati e la misura dei pezzi durante il processo produttivo e nasce per essere condivisa dagli operatori che seguono le macchine di produzione. Ad intervalli regolari devono controllare i loro pezzi e possono evitare di recarsi in sala metrologica perché con questa macchina riescono a ottenere tutte le misure necessarie. In questo modo accelerano i tempi di acquisizione e prestano maggiore attenzione alla produzione. Il vantaggio principale è una riduzione dei tempi di controllo e un aumento delle quote controllate, quindi più dati e più tempo. Con l'SPC Lab chiaramente noi riusciamo a controllare tutte le misure in un colpo solo, praticamente veramente in una frazione di secondo, basta un clic e ti danno le 20, le 30 misure tutte insieme e ti dice se siamo all'interno delle toleranze o fuori o stiamo andando alla deriva. Per prendere quelle 20 quote in passato avremmo avuto necessità di parecchio tempo, nell'ordine anche di una 30-40 minuti. Con il nostro SPC Lab andiamo a prendere tutte le quote di misura che solitamente un operatore prenderebbe con un calibro o un misuratore di profili, semplicemente andando a posizionare il nostro campione all'interno di una guida in vetro, indipendentemente dall'orientamento, quindi da come viene messo il particolare, il sistema è in grado di verificare le quote richieste. Nell'arco di 10 minuti noi controlliamo un pezzo, che è un grande vantaggio, anche perché in quei 10 minuti acquisiamo tantissime quote attraverso l'SPC Lab. Il campionamento di un singolo pezzo tramite l'SPC Lab avviene in maniera molto veloce, il posizionamento è molto semplice e è proprio questione di pochi secondi. Una volta posizionato il nostro campione all'interno della guida di vetro vado a controllare tutte le misure ottiche prese dalla nostra telecamera e tutte le misure che non sono visibili le posso verificare con strumenti esterni come ad esempio un calibro digitale o imputare manualmente un valore dato da un tampone, un passa non passa, per così ottenere un piano di controllo con tutti i nostri dati aggregati. Creare un nuovo piano di controllo è davvero molto semplice e veloce, abbiamo solo bisogno di un campione e un disegno tecnico. Una volta acquisita l'immagine è l'operatore attraverso il suo piano di controllo ad andare a definire le quote che interessano e il sistema in automatico fornisce già un valore nominale, quindi l'operatore va soltanto ad applicare delle tolleranze minime e massime. Seconda anche della complessità del nostro particolare l'operatore è in grado di ottenere un nuovo piano di controllo nell'arco di 5 minuti al massimo. Oltre ai piani di controllo che abbiamo a disposizione con SBC è possibile anche effettuare delle misurazioni al volo come ad esempio fa l'operatore in una tonneria in fase di attrezzaggio macchina. Gli attrezzisti stessi incominciano a chiedermi anticipatamente i programmi per le lab perché nella loro dinamica di lavoro è molto importante avere tempo. L'attrezzista mette i suoi utensili, un primo controllo veloce che abbia fatto correttamente il suo lavoro la lab glielo dà in uno schiocco di dita. Con SBC Lab siamo in grado di ottenere tutte le quote teoriche o di geometrie complesse che non è possibile prendere manualmente con un calibro ma siamo obbligati a utilizzare un misuratore di profili. Come ad esempio il diametro approssimativo o una lunghezza tra il mio centro della sfera e una battuta sotto testa. Oltre che la velocità che chiaramente hanno le macchine in più anche la ripetibilità delle misure che è importantissimo perché l'operatore quando andava a fare le misure manuali con strumenti classici ogni operatore ha la sua mano. Tanto potrebbe il centesimo sfuggere e invece con la SBC Lab chiunque lo faccia la misura è sempre esattamente quella. Le macchine sono estremamente affidabili e questo l'abbiamo consolidato negli anni di attività perché tutti i pezzi controllati dalle SBC Lab non hanno mai avuto un ritorno negativo da parte dei clienti. Quindi non c'è mai stato un errore di valutazione delle lab. Tanto ci ha dato un grosso aiuto sia in tempi che in garanzia delle misure misurate. Nella mia esperienza personale le SBC Lab della DIMAC sono veramente degli ottimi strumenti di controllo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.